A 12 anni ero un po' sovrappeso, tutta la vita io ho combattuto con la linea, sono praticamente cintura nera di dieta, però da bambina e quindi ero un po' grassottella e quando ero più o meno a 13 anni ho raccontato questo episodio, di questi ragazzi che giocavano a palla a volo io chiedo posso giocare, questi mi prendono appallonate dicendo odio le donne, odio le donne, posso giocare e questi mi prendono appallonate dicendo odio i grassi, quanto mi stanno sui cazzo i grassi, posso giocare e questi mi prendono appallonate dicendo come si fa sesso con una grassa, con cautela, con tanto coraggio, col cazzo de nart, in pratica e io li ringrazierò tutta la vita perché ho perso 10 chili in due mesi, ma che cazzo dice sta balena, no è sì, i nemici hanno sempre un'utilità, che uniti nella miseria e insieme nella vittoria vincere vinceremo, sì, viva